Grazie al mio amico Gianni Parisi, a Davide Marotta, a Andrea Sannino che non vedo, grazie veramente di cuore, ma io tengo tantissimo, oggi mi sono così emozionato in chiesa, è una cosa che non ho detto a nessuno, però mi farebbe piacere, io ho un cantante in famiglia che ha una, il cantante in famiglia, che è mio fratello Gino, che oggi mi ha dedicato un Ave Maria straordinario, dovete pensare a una cosa, che in chiesa io ho avvertito una frequenza vocale, una risonanza di mio padre, e io credo che Lucia, proprio con la testimonianza vocale, quella di papà, e sentire la sua voce, mi ricordo tantissimo che la voce straordinaria. Vi dai un grande onore, mio padre è stato uno che voleva fare tanto per me, voleva un barato, ma la capa miglia è stata mai buona, però, la cosa, chi è che ha detto è vero? Non è vero! Ah, non è vero, però, sono stato, infatti, però chi le caggia avrevo per, digitare a te te ve, 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 un senso di Domenico lo è, sa questa vocalità, vorrei stare, faccio due canzoni, due intornieri, sapete senza esagerare, se lo scatto un cachet, no, scatto un cachet, capito, però volevo dire una cosa che papà mi ha imparato la vita, non sono riuscito ad imparare quello che lui sapeva fare, però mi ha imparato la vita. Grazie. 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 Questa la voglio dedicare a mia madre, solo che stiamo in una parte, se non va tu, sai che canta poco in Davide, e che stai bene, non metto in una palla, che stai bene a segno c'è che c'è un give, e che stai bene a segno e che stai beneodorando e fa l'angora da me piace assai se la se tuoi me fanno sali in ciega quando ti stringhi a girarci e sola da te la se dim dalla me ma bruci come la assai come la assai come la assai come la assai se la se non mi fanno sali in me e non mi fanno sali in me e non mi fanno sali in me Grazie a tutti